bella ragazzi impegnati costantemente radigno oggi ragazzi come avete detto dal titolo oggi vi farò vedere tutti i giochi della playstation 5 che io ho a casa mia allora ragazzi sono tanti venuti il video non so se sarà lungo però lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella però non vedremo mai più nessun video e niente io direi di iniziare subito a far vedere tutti i però ragazzi partiamo che alcuni sono altri della ps4 che si possono utilizzare anche sulla ps5 li ho presi alcuni sulla ps4 perché costano di meno però si possono utilizzare comunque sulla 5 allora ragazzi ci potrebbero essere alcune delle copertine dei giochi con dentro un altro gioco perché a volte mi scoccio di rimettono sempre nello stesso sono tanti sono tanti poi ce l'ho alcuni sono apriti scaricati quindi sono ancora di più ragazzi questi sono solo quelli qua sopra la sopra ce ne sono altri partiamo ragazzi vabbè the sims 4 per ps4 questo con gli zombie PES 2021 io giocavo a peste di tempo poi è diventato in football e ormai adesso è brutto quindi gioco a fifa deer trelli un carted gran gran gioco call of duty uno dei miei giochi preferiti forno gioco caos 3 marvel lego avengers fifa 12 che però ragazzi qua dentro non c'è fifa 12 ma c'è un altro gioco che me l'hanno regalato è questo non è male come gioco questo ragazzi eh street fighter gta fifa 23 questo qua sempre con le macchine e questo qua bravo team che è simile a call of duty qua ragazzi sappiamo gli altri allora fc 24 call of duty black ops cold war comprato a luglio penso che si si luglio fine luglio minecraft days gone comprato tipo quattro giorni fa grandissimo gioco ragazzi aspettate che tolgo il fai no no vabbè lasciamo così days gone pagato 35 euro e come ultimo gioco abbiamo call of duty modern warfare ragazzi adesso non so parlare italiano adesso ragazzi accendono days gone che è fra è un gioco lunghissimo ragazzi quindi adesso lo avvio vi faccio vedere un po com'è il gioco e niente vediamo se vi faccio vedere pure qualche gioco andrei pronostico quando finisce juve napoli ciao bella ciao ragazzi sono in la muttana dai per farvi capire quanto è alta questa fila di giochi poi ragazzi c'ho anche il vr signori ci sono giochi assurdi assurdi vi devo portare un video con il vr ragazzi in pratica c'è una modalità in cui ti mettono il gioco con la gabbia nello siano arriva lo squalo ma fa paura ragazzi è super realistico ragazzi quel video mamma mia se lo faccio un video assurdo ragazzi adesso però andiamo a giocare andiamo a giocare ragazzi e oh e 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 niente ragazzi questo video può finire qua, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere mai più nessun video e se questo video fa tanti video fa tanti like arriviamo agli 800 iscritti, compro FC25 e iniziamo una nuova carriera con il Napoli. E niente, noi ci rivecchiamo, ad un prossimo video, e vai you, ciao!